Il timore è quello dei ritardi, delle cancellazioni e soprattutto del sovraffollamento nelle ore di punta. È l'incubo di tutti i viaggiatori e tutti attendono domani, poiché sempre domani sarà operativa la circolare che impone a tutti i gestori che non hanno reti dotate del sistema di controllo marcia-treno di limitare la velocità a 50 km all'ora. Gli effetti possono diventare devastanti per le ferrovie sud-est e ferrotranviaria. Si cerca ora di correre ai ripari, ma senza avere le idee chiare. Ieri a Roma si è tenuta una riunione alla quale ha partecipato il presidente dell'Associazione delle Società Edenti del Trasporto Pubblico Locale per la Puglia e la Basilicata, Matteo Colamussi. Andrà valutato caso per caso nei tempi previsti, ha detto Colamussi, in quanto si tratta di una prescrizione che coinvolge le infrastrutture che non rispettano gli standard della rete nazionale. Ma, ha aggiunto, non si può fare un discorso comune, va considerato che ogni azienda ha le proprie caratteristiche e le proprie peculiarità. Risposta incomprensibile, poiché è noto che le nostre ferrovie in concessione non hanno in dotazione il sistema di sicurezza. Cosa accadrà nel frattempo non è dato sapere. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, dopo i morti dell'incidente sulla tratta Andria a Corato, posta ancora sotto sequestro, è intenzionata a far rispettare la direttiva. L'Europa ci guarda e rischiamo di essere sottoposti a infrazione. In Puglia sono 11 le linee coinvolte, 6 della sud-est, 2 del Gargano e 3 della ferrotranviaria. Attualmente sulla Bari Barletta, per raggiungere il capoluogo, si impiegano più di due ore e gli autobus sono presi d'assalto. Disagi insopportabili per studenti e per quei lavoratori che ogni giorno, per raggiungere il posto di lavoro, accumulano ritardi su ritardi.